Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al vostro appuntamento con l'informazione di Antenna Sud, l'appuntamento serale della domenica, questa sera la politica in apertura. Importanti novità arrivano da Taranto, da Palazzo di Città, perché il sindaco Rinaldo Melucci è passato ad Italia viva e a darne notizia è stato proprio il presidente del partito Matteo Renzi durante l'Assemblea Nazionale a cui lo stesso Rinaldo Melucci ha preso parte. Tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura firmato da Leo Spalluto. Prima della previsto, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto e presidente della provincia, aderisce ad Italia viva con la benedizione del presidente del partito ed ex premier Matteo Renzi. È stato proprio quest'ultimo ad annunciare l'ingresso di Melucci con entusiasmo nel corso dell'Assemblea Nazionale di Italia viva alla Cinema Adriano di Roma. E io saluto con grandissimo piacere il fatto che un amico che su questi temi ha lavorato da sempre, talvolta abbiamo anche avuto elementi di discussione, ma che ha dimostrato di avere una grande capacità di gestire la sfida verso la decarbonizzazione come Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, sia oggi qui con noi per iniziare o meglio riprendere un lavoro insieme. Sono molto contento che con noi sia Rinaldo perché insieme a lui tenteremo di allargare il ragionamento, non solo nella sua città, ma su tutto il tema della Blue Economy, degli investimenti sull'innovazione tecnologica e ambientale, su come riuscire a creare posti di lavoro che siano realmente green, non ideologicamente green. Un ingresso roboante che lascia presagire un ruolo importante per Melucci nel movimento renziano. Una scelta consapevole che non si è venuto qui per comodità, perché forse qualcuno di voi lo sa, lascio il Partito Democratico anch'io per motivazioni molto simili insomma a quelle di tanti di voi. E' il capolavoro tattico del Presidente regionale d'Italia Viva Massimiliano Stellato che ha dato il benvenuto a Melucci con una nota passo dopo passo, ora può contare su sindaco, due assessori, Ciracci e Lussoso, sei consiglieri, lo stesso Stellato, Casulla, Patano, Iliano, Mignolo e Tribbia. Adesso invece ci spostiamo a Bari dove per le comunali è ancora muro contro muro, è l'area della Convenzione per Bari, accelera e sfida il Partito Democratico. Michele Laforgia sfida il PD stavolta apertamente e chiede di confrontarsi sui temi della città. Lo fa nella nota che chiude la riunione del direttivo della giusta causa mentre il dossier delle comunali baresi 2024 finisce sui tavoli della capitale, quello della segretaria nazionale PD e l'Ischlein e quelli degli omologhi di 5 Stelle e sinistra italiana Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Poche ore prima idem hanno confermato la linea a zeramento e non solo delle candidature interne del deputato Marco Lacarra e degli assessori uscenti Pietro Petrozzelli e Paola Romano. Dalla Convenzione per Bari infatti non hanno alcuna intenzione di fare passi indietro, chiedono i motivi per i quali il nome del penalista sia ritenuto divisivo ma ci aggiungono il rischio, neppure tanto tra le righe, che l'obiettivo di qualcuno sia sgombrare il campo non solo da un candidato ritenuto scomodo ma dalla sua linea politica per avere mano libera spiegano nella prossima gestione della città. Un'accusa forte, niente veti né diktat ribadiscono i suoi ma pure che andranno avanti rilanceranno proposte per la città e chiederanno a forze e movimenti di discutere di quelle indietro. Insomma non si torna il nostro metodo unitario e la discussione, non l'obbedienza mandano a dire il lavoro degli scerpa e dei pontieri, si fa sempre più difficile. Ci spostiamo adesso in Basilicata dove invece il vicepresidente del Consiglio regionale lucano Mario Polese ha tracciato un bilancio della sua attività. Ascoltate. Il vicepresidente del Consiglio regionale lucano e consigliere di Italia Viva Mario Polese ha raccontato in una sorta di sliding doors tra quello che è stato fatto nella legislatura in corso e le prossime sfide elettorali la propria visione di una Basilicata che può essere ancora più bella. Un evento svoltosi nel Cineteatro del Principe di Piemonte a Potenza non solo politico ma all'interno del quale hanno trovato risalto anche momenti di cultura, musica e teatro. Noi abbiamo rivendicato alcune azioni che nonostante dei banchi dell'opposizione siamo riusciti a portare a casa durante il Covid, l'istituzione delle USCA, piuttosto che la priorità ai disabili sui vaccini, piuttosto che una serie di battaglie per quanto riguarda il bonus CAS. Io vedo una Basilicata che doveva essere nelle aspettative di questo governo regionale diversa da quella attuale. Mi pare che non ci sia stata una grandissima azione di cambiamento, questo mi pare sotto gli occhi di tutto, mi pare che ci siano delle criticità importanti come quelle che riguardano la sanità, di contro sono tra quelli che pensano ad esempio che il bonus CAS sia stata una misura valida. Quindi sicuramente è un chiaroscuro, sicuramente c'è molto da fare. Noi siamo convinti di poter essere oggi al centro di tutti i dialoghi, di tutti i tavoli, non avendo veti ed essendo una forza che è molto radicata e che ha proposte dal nostro punto di vista innovative e riformiste. Ragioneremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con tutti i protagonisti provando tra virgolette a imporre quella che è la nostra agenda politica e alla fine decideremo quello che è il meglio, chiamiamolo così, per la Basilicata e soprattutto siamo convinti del fatto che lì dove noi andremo porteremo un valore aggiunto significativo per la vittoria. Lasciamo adesso la politica, cambiamo argomento perché questa mattina a Taranto, nel porto di Taranto, è sbarcata la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Ascoltate. Uno sbarco avvenuto serenamente è attraccato a Taranto poco prima delle otto di domenica la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere che ha soccorso 44 persone in acqua internazionali a largo della Tunisia. I profughi sono stati raggiunti mentre erano a bordo di due imbarcazioni in vetroresina. Tra loro anche quattro bambini di età inferiore a tre anni, quattro donne alcuni minori non accompagnati. Provengono principalmente da Bangladesh, Libia, Siria, Egitto, Marocco e Pakistan. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Taranto con il supporto di Polizia, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Croce Rossa. Buone le condizioni all'arrivo dei migranti, tutti sottoposti a controlli sanitari prima di essere condotti all'hotspot per il fotosegnalamento e il successivo smistamento che avverrà interamente verso destinazioni pugliesi. Sì, è andato tutto bene, è uno sbarco tranquillo e una buona collaborazione con le autorità locali. Non c'è nessun caso in particolare ma sicuramente le zone da dove provengono sono sempre zone dove ci sono dei conflitti in atto e delle violenze nel sottofondo. Molti hanno subito indicibili violenze prima di imbarcarsi. I medici senza frontiere in una nota sottolinea che anche uomini sono soggetti a violenza sessuale in Libia a bordo di Geo Barents, aggiunge la ONG. Alcuni hanno raccontato di essere stati costretti ad assistere allo stupro di donne nei centri di detenzione libici, mentre altri hanno affermato di aver dovuto prostituirsi per pagare la traversata. E adesso torniamo a parlare del femminicidio avvenuto ad Andria, che ha visto vittima Vincenza Angrisano, per la quale sembra essere stata fatale una coltellata al cuore. Intanto lunedì 4 dicembre sono previsti i funerali. Sarebbe stata una coltellata al cuore ad uccidere Vincenza Angrisano, la donna di 42 anni assassinata ad Andria martedì scorso dal marito Reo Confesso, Luigi Leonetti, e quanto sarebbe emerso dall'autopsia eseguita nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari dalle prime ricostruzioni. La vittima sarebbe stata raggiunta da tre coltellate mentre si trovava sull'uscio della porta del bagno della loro piccola abitazione, che si trova a tre chilometri dal centro abitato della città, e quella mortale sarebbe stata quella che l'ha raggiunta al petto. La 42enne che si occupava della vendita di prodotti per la casa sarebbe morta in poco tempo, tanto che al suo arrivo il personale del 118, chiamato dall'uomo, ha solo potuto constatarne il decesso. Ora si attendono gli esami di laboratorio su quanto repertato sul luogo del delitto, tra cui ci sono indumenti e il coltello impugnato dal 51enne, che adesso si trova nel carcere di Lucera, nel Foggiano, con l'accusa di omicidio volontario, con l'aggravante di aver compiuto il fatto ai danni del coniuge. La salma intanto è stata riconsegnata alla famiglia e nelle prossime ore i funerali in cattedrale ad Andria, ufficiati dall'arcivescovo Luigi Manzi. Adesso invece a Manduria, nel Tarantino, ancora una manifestazione contro la violenza sulle donne. Non provate vergogna, denunciate, queste le parole urlate dall'intimo ma rumoroso corteo organizzato dal Comitato Spontaneo contro il femminicidio di Manduria, che ha sfilato tento di rosso per il corso centrale del paese, per non dimenticare le 108 donne ammazzate per mano degli uomini. E' assurdo che un uomo ammazzi una donna. Volti, nomi, corpi di donne italiane stampate sul petto dei cittadini accorse alla manifestazione, padri, madri ma anche bambini. Non voglio essere picchiata, uccisa e buttata e gettata in un burrone come Giulia Cetchettin. Io spero che non ci sarà mai un'altra Giulia. Candelle accese, un grande cartellone stampato con i nomi dei femminicidi e poi le crude testimonianze. Sono sopravvissuto ad una violenza che mi è stata fatta nel 2020, avevo 17 anni, mi sono liberato con le unghie e con i denti, quindi è logico essere importante per me stare qui, perché io da anni che combatto, perché io non sono un pezzo di carne. Quando ero arrivata proprio nel fondo più nero è stato mio figlio che mi ha svegliato da questo stato comatoso in cui mi trovavo. Le associazioni, anche un'amica, anche un parente, anche un messaggio, però bisogna segnalare subito. La preghiera alle istituzioni affinché si facciano carico di investimenti certi, sicuri e cospicui. Non una di meno, lottiamo tutti per questo motivo. Parliamo adesso di sanità e se ne è parlato a Lecce e durante un incontro di battito si è parlato di un progetto che mira a riformare addirittura il titolo quinto della Costituzione. Si è tenuto nel giardino d'inverno all'interno di Villa Giovanni Camillo della Monica, prestigiosa di Mora del 600 a Lecce, il primo confronto di battito quale sanità per la provincia di Lecce. Durante l'incontro verrà presentato un progetto tendente a riformare il titolo quinto della Costituzione. La sostenibilità del servizio sanitario è fortemente a rischio, lo ripetiamo ogni giorno, sono poche risorse umane, sono poche in generale risorse in relazione invece alla crescita esponenziale del fabbisogno di salute e di benessere della nostra società che è sempre più anziana. Un momento di riflessione opportuno ovviamente aspetta il legislatore, dare gli indirizzi a me, amministratore, aspetterà applicarli. Professore, effettivamente quale sanità serve per la provincia di Lecce? È intanto una sanità più umana, più umana significa anche davvero poi dal centro della sanità, la salute del cittadino e investire in prevenzione perché se io investo nel costruire ospedali, gli ospedali sono luoghi di cura, io invece oggi ho la possibilità soprattutto per quanto riguarda determinate patologie a partire dal cancro di poter prevenire questa malattia e quindi guarire. Non dimentichiamo che lo scorso anno noi abbiamo registrato 390.700 nuovi casi di cancro in Italia, cioè 1.071 italiani ogni giorno hanno avuto la diagnosi, hanno scoperto di essere affetti da un tumore, da un cancro. Gli interventi che sono essenziali per la sanità pubblica è prima di tutto che sia pubblica, prima di tutto che il pubblico sia il ruolo centrale di tutto e questo è il primo intervento che deve essere fatto, quindi invertendo la tendenza che attualmente c'è, perché la la sanità pubblica può garantire una sanità equa e universale. Restiamo a Lecce ma per parlare di Scuola Futura Campus che parte proprio dalla città barocca per poi attraversare tutta l'Italia. Ascoltiamo Maria Teresa Carrozzo. È l'inizio di una nuova avventura, una nuova avventura della scuola, della scuola del futuro. Qui ci sono ragazzi di tutta Italia con dei laboratori fantastici, ci sono i dirigenti scolastici dall'altra parte che elaborano i loro risultati, in sinergia in piazza diciamo ci sono tanti giovani e tanti bambini e tanti ragazzi che hanno fatto partire questa bellissima esperienza con dei camper che partirà da Lecce e viaggerà in tutta Italia per portare la nuova scuola del futuro. Ha preso il via in piazza Santo Ronso a Lecce Scuola Futura Campus, una tre giorni di formazione sulla didattica innovativa di confronto sulle buone pratiche di riflessione con le comunità scolastiche sui temi e sulle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cui saranno coinvolti studentesse, studenti e docenti e dirigenti e personale scolastico. L'iniziativa si articola in laboratori formativi dedicati a docenti e dirigenti scolastici sui processi di insegnamento e apprendimento e a studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo provenienti da tutta Italia per costruire e confrontarsi sulle sfide della scuola del futuro. Oggi c'è grande speranza in una scuola nuova, in una scuola innovativa, in una scuola che guarda al futuro, ma non si può avere una scuola innovativa se non si investe sui docenti, sulla formazione professionale, sulla comunicazione, sull'informazione fatta all'interno delle scuole con materiali, con edifici, con sicurezza. Quindi PNRR da una parte, Agenda Sud dall'altra per abbattere i divari tra Nord e Sud. Lo start del progetto da Lecce è stato fortemente voluto dal Ministro dell'Istruzione del Meito Giuseppe Valditara e dal Senatore della Lega Roberto Marti, Presidente della Commissione Cultura Palazzo Madama. La tre giorni di lavoro si concluderà alla presenza del Ministro lunedì 4 dicembre al Teatro Paesiello per la presentazione di Scuola Futura Campus. Torniamo adesso nella città di Manduria, ma per parlare di un altro argomento di grande importanza, no all'ampliamento della discarica. Questo sarebbe l'appello lanciato dal sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, c'è stata anche una protesta. Ascoltate. Uniti contro l'ampliamento della discarica Manduria Ambiente. L'appello di protesta lanciato dal sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, è rivolto alla politica, maggioranza e opposizione, ai sindacati, alle associazioni ambientaliste, che si è concretizzato con un corteo che ha sfilato dall'arco di Sant'Angelo a Piazza Garibaldi, contro l'ipotesi di sopralzo della discarica e dell'ammasso di ulteriori 150 mila metri cubi di spazzatura. No al sopralzo e lo diciamo anche dal punto di vista tecnico. Uno, che l'ufficio tecnico nostro ha dato parere negativo perché mancano alcuni documenti. Due, quello che dal punto di vista proprio politico non è possibile che ancora il territorio sia di riferimento di discarica. Il nostro territorio ha già dato. La società emiliana Manduria Ambiente per conto dell'Ager Puglia gestisce la discarica dal 2004 e chiede per la seconda volta un ingrandimento per un totale di 1168 metri cubi di spazzatura. Da vent'anni Manduria ha in camera tonnellate di rifiuti con conseguenti danni ambientali e rischi alla salute. È una ricaduta anche in termini di turismo. Se dovessero ampliarla, naturalmente noi sempre paghiamo le conseguenze, non è giusto. Ci riempiranno sempre di cose negative, di spazzature e basta. Puzza, chiamiamola nel vero senso della parola, che ci sta avvolgendo continuamente. Manduria è uno dei primi con la tiroide, no? Quando vai a Pisa dico dove sei di Manduria? Già lo sanno. Ora l'esito definitivo che spetta alla Regione Puglia si saprà tra poco meno di due mesi alla chiusura del power e il provvedimento autorizzatorio unico regionale. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di musica, perché nella prossima edizione della Festival di Sanremo ci saranno diversi pugliesi ed anche un'artista lucana. Ascoltate. Qualche istante. Il popolare conduttore Amadeus ha annunciato i 27 big che gareggeranno sul palco dell'Arison dal 6 al 10 febbraio 2024, ai quali andranno ad aggiungersi tre vincitori di Sanremo Giovani per un totale di 30 artisti. Prenderanno parte alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, il Tarantino Diodato dopo il successo nel 2020 con Fai Rumore, ma non sarà l'unico pugliese in gara nella Città dei Fiori. Torneranno all'Ariston anche i Negramaro, Emma, Alessandra Moroso e Mannini. La Basilicata invece sarà rappresentata da Angelina Mango. Gli artisti pugliesi si esibiranno insieme a tanti altri big della canzone italiana, tra i quali Fiorella Mannoia, Renga e Nec, Il Volo, Mahmood, Loredana Bertè, Annalisa, Ricchi e Poveri e tanti altri. Ma Puglia e Basilicata, si sa, faranno il tifo per i loro artisti. La città di Palagianello invece diventa capitale del folklore e città del folklore, il servizio del nostro direttore. Importante e prestigioso riconoscimento per il comune di Palagianello, insignito ufficialmente del riconoscimento di capitale del folklore, ma soprattutto città del folklore, riconosciuta come tale dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari e dalla Regione Puglia. La cerimonia si è svolta all'interno della suggestiva cornice del castello Stella Caraccelo di Palagianello. Sono stati riproposti gli antichi mestieri e le antiche tradizioni, in un contesto che ha visto la partecipazione anche delle autorità locali alla presenza dell'onorevole Vito De Palma. Una cerimonia che conferisce al comune di Palagianello uno status di capitale del folklore che sarà volano di economia attraverso il turismo. Un lavoro che dura da 42 anni. Questa è una formazione culturale che ha cercato di riscoprire i valori tradizionali di questa terra, rappresentarli in forma musicale, in forma scenica, anche nel recupero dei vestiti e delle tradizioni, delle abitudini. Chi dal primo momento ha voluto guardare nella direzione del folklore ha fatto una scelta giusta, ha fatto una scelta importante. Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento di Palagianello città e capitale del folklore grazie al gruppo folk città di Palagianello che da oltre 20 anni offre al nostro territorio un importante festival. Palagianello per tantissimi motivi, per l'importanza del territorio, per l'importanza soprattutto del gruppo folklorico di Palagianello, un momento importante per questa città e soprattutto per le tradizioni di questo popolo. A Bari invece l'ottava edizione della mostra mercato ispirata alla cultura del riciclo. Il giubbotto della moto, lo smalicato in pelle, un po' di robe che nonostante hanno la sua età hanno il loro gusto estetico. Qualche vinile di occasione. Circa 170 espositori provenienti da tutta la Puglia e da molte regioni d'Italia con articoli vintage, artigianato, modernariato, vinili, libri, illustrazioni, abbigliamento, giocattoli, orologi, cosmesi, bio, piante e design. Edizione numero 8 per il Vintage Market Bari. La mostra mercato ispirata alla cultura del riciclo dedicata agli appassionati degli oggetti del passato. Durante la kermesse organizzata da Bidonville Vintage Store, esercizio del bando di Bari 2000-2024, un negozio non è solo un negozio, i visitatori si sono immersi nelle proprie passioni alla ricerca del tesoro nascosto, del capo vintage a cui dare un'altra vita o semplicemente curiosare tra gli oggetti e le collezioni dei tantissimi espositori che hanno riportato alla mente ricordi piacevoli del passato con un unico comune denominatore, la sostenibilità. Abbiamo superato tutti i record, tantissimi espositori provenienti da tutta Italia. La gente insomma ci ha raggiunti qui già nelle prime ore della mattina ed è davvero una grande soddisfazione. I visitatori si lasciano trasportare da questo mood vintage, quindi a 360 gradi, cercano il capo vintage, così come all'interno c'è l'artigianato creativo, c'è il modernariato, ci sono stilisti, ci sono nuovi brand. Felpe, pantaloni, giacche, sempre appassionate al vintage, da sempre. Allora stavo cercando delle colonne sonore, quella del padrino, se la trovo. A Taranto Santa Barbara non rappresenta soltanto un momento dedicato alla celebrazione religiosa, ma un doveroso omaggio anche ai Vigili del Fuoco, eroi dei nostri giorni. I Vigili del Fuoco di Taranto hanno dato il via alle celebrazioni in occasione della ricorrenza di Santa Barbara. Nella piazzale della sede di Taranto una cerimonia di commemorazione alla presenza del comandante provinciale Giuseppe Merendino è una celebrazione eucaristica che ha completato la domenica di celebrazioni. Santa Barbara rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede e coraggio ed è la patrona dei Vigili del Fuoco. Santa Barbara è una martire, una ragazza che ha sacrificato la propria vita per i propri ideali, per la fede e la propria libertà, uccisa dal padre. È un'immagine che ricorda una situazione che ancora oggi esiste, questa delle donne che purtroppo subiscono l'azione, la violenza anche in famiglia. E quindi noi ci ispiriamo a questi altri ideali che rappresenta Santa Barbara per ricordare i nostri compiti di istituto importantissimi per la sicurezza dei cittadini. La presenza dei Vigili del Fuoco in pensione è significativa perché un Vigili del Fuoco, possiamo dire, è per sempre. Un Vigili del Fuoco, non finisce mai. Dopo 40 anni di servizio ce l'abbiamo nel cuore il fatto dei Vigili del Fuoco. Noi ci uniamo sempre insieme ai comandanti che si avvicendano ogni paio di anni, quindi è sempre una prima volta per noi. Ci occupiamo come associazione invece anche per quanto riguarda tutte le attività nelle scuole, scuola e casa sicura, per con i bambini a insegnare tutto quello che possiamo trasmettere di quello che abbiamo imparato. Ci spostiamo adesso a Doria dove continua a tenere banco la vicenda legata alla riapertura al pubblico del Castello Svevo. Ascoltiamo Michele Iurlaro. Per quanto mi riguarda, ma questo diciamo che è un fatto noto, l'amministrazione di Oria persegue fondamentalmente l'obiettivo di riaprire il castello e di riconsegnarlo anche all'uso della cittadinanza. L'amministrazione persegue l'obiettivo di riaprire il castello al pubblico e se questo vorrà dire trovare un accordo, quell'accordo pur negli ovvi paletti della liceità si troverà. Come sarà possibile superare il contenzioso inodor di risarcimento rivendicato dal comune nei confronti della proprietà non è dato saperlo, ma intanto il legale dell'ente Carlo Tatarano conferma la volontà dell'amministrazione guidata dal sindaco Cosimo Ferretti, ovvero instaurare un dialogo costruttivo con la Borgo Immobiliare, attualmente proprietaria del Maniero, saldamente in mano alla famiglia Romanin Cariandro, per consentire la riapertura di quei cancelli chiusi da tempo. Sicuramente l'intenzione principale, ma è l'intenzione politica, chiamiamola così, dell'amministrazione. È una questione che esula un po' dal mio compito strettamente tecnico. Bisognerà trovare gli strumenti tecnici per un'eventuale sistemazione o per un eventuale accordo che sia a latere, diciamo, appunto di quello che è il semplice risarcimento del danno. Il nodo detto del contenzioso è tutto nelle finalità commerciali legate al castello. Acquistato dalla Borgo Ducale con lo scopo, non è un segreto, di celebrare al suo interno matrimoni e convegni. Eppure le autorizzazioni necessarie non sono mai arrivate. Di mezzo ci si mise anche la procura di Brindisi che a fronte di abusi edilizi eseguiti durante i lavori di restauro sequestrò il monumento. Caduti i sigilli e cristallizzate le accuse, il castello Svevo è rimasto chiuso, almeno ai visitatori, almeno da dieci anni. A Brindisi Confindustria ha promosso un incontro in cui si è parlato di cyber security. La digitalizzazione industriale delle piccole e medie imprese rappresenta ormai un tema di grande attualità che da tempo pone anche un confronto di innovazione e di aggiornamento da parte delle imprese e che tocca però anche il tema della sicurezza. È proprio in questa direzione che Confindustria Brindisi, con la sezione terziario innovativo, ha voluto promuovere un confronto che ha messo il centro il tema del cyber security, una necessità per tutte le imprese che con il digitale devono trovare anche nuove modalità di sicurezza. I rischi ormai sono diffusi perché anche sugli stessi smartphone arrivano giornalmente dei malware che tentano comunque di rubare delle informazioni. I rischi sono tanti, soprattutto sulle grandi imprese. Noi, la maggior parte dei dati, basti pensare ai servizi, alle società che gestiscono servizi finanziari, società che gestiscono dati sensibili, quali ospedali e quant'altro. Degli attacchi informatici possono bloccare addirittura la produzione di un'azienda con quindi danni ingenti, milioni di euro di danni. Immaginiamo una grossa azienda che viene bloccata la produzione per una o due giornate. È un grossissimo problema. Con l'azienda, come tutti i cittadini, sono soggetti a questo tipo di attività e devono prima di tutto avere consapevolezza di questa attività, che può partire dal telefonino, ma può partire dal telefonino della nonna ed arrivare fino a grande gruppo imprenditoriale e viceversa. Quindi nell'avere consapevolezza c'è bisogno di formazione. E adesso parliamo un po' del Natale. A Bari, infatti, in piazza San Nicola, gremita dai fedeli, c'è stata l'accensione del valbero. Bari si prepara al Natale i festeggiamenti per San Nicola e nel percorso di eventi di avvicinamento a questi due importanti appuntamenti l'accensione dell'albero proprio in piazza San Nicola. Tantissimi cittadini che hanno preso parte a questo sentito momento di devozione. Non solo l'albero, ma anche il presepe, poi gli sbandieratori e i tamburi a fare da cornice a una breve processione del Santo di Mira. Piazza San Nicola a Bari si popola di cittadini, ma anche turisti, che in questo periodo scelgono di raggiungere il capoluogo pugliese e soprattutto di fedeli, che dopo l'accensione dell'albero hanno condiviso un momento di preghiera comunitaria all'interno della Basilica. Con loro c'era padre Giovanni Distante. Entriamo in un clima gioioso di festa e naturalmente la gioia è motivata dalla speranza cristiana e in modo particolare in questi tempi un po' difficili. Noi abbiamo bisogno di tanta speranza, ma anche di tanta consolazione che ci viene senz'altro dal nostro amore per San Nicola. Anche a Lecce ha preso vita il Natale. Guardate. È stato un momento davvero magico, quello vissuto in Piazza Santo Ronzo a Lecce, davanti a centinaia e centinaia di persone a corse per assistere all'accensione non solo del grande albero di Natale al centro dell'ovale, ma anche di tutte le luminari che hanno addobbato a festa l'intera piazza. Un momento scandito dalle canzoni natalizie eseguite magistralmente dal coro gospel AM Family, diretto da Elisabetta Guido. Un regalo meraviglioso per la città e gli auguri davvero magici. Abbiamo voluto iniziare così, accendere l'albero con il coro, organizzare un piccolo momento di comunità per ritrovarci, come è giusto che sia. Insomma, queste occasioni sono importanti appunto per ritrovarci qui in piazza, per cui davvero un gran bel momento, grazie al coro della AM Family, Elisabetta Guido, che ritroveremo il 26 per il concerto, come ogni anno, nella chiesa di Santirene. E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Restate aggiornati consultando il nostro sito www.antennasud.com, sul quale troverete tutti i nostri servizi e tutti gli aggiornamenti. Prossimo appuntamento con l'informazione di Antenna Sud è per domattina alle ore 6.45 con una ricca rassegna stampa. A tutti voi, buona serata. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo.